Sono veramente emozionato e non posso essere triste ma sono felice di partire perché la comunità mi ha arricchito di sue esperienze religiose, di fede, di tante cose che posso dire però per essere breve veramente sono contento perché mi ha fatto crescere spiritualmente e umanamente e quindi sono grato a questa comunità e spero che il Signore dove mi manda può servire tutto quello che ho imparato spiritualmente e umanamente. Qual è stata l'esperienza più forte che hai vissuto in questi quattro anni? Più forte è stata quella della comunità, mi ha dato senso della Chiesa, ci sono tanti gruppi ecclesiali, tante confraternite, tanti movimenti e tante feste, comitati, è stato veramente bello questo porto nel mio cuore e anche il gruppo di adorazione dell'Eucaristia che hanno dato loro tempo e danno, continuano a dare loro tempo per il Signore e questo è veramente toccante spiritualmente. Che messaggio vuoi mandare ai fedeli di Mistretta, anche ai tanti amici che hai conosciuto in questi anni? E un po' voglio ripetere una intervista che ho fatto precedentemente che bisogna crescere come comunità. Allora Dio è nostro padre e noi tutti i Suoi figli e siamo fratelli e come ogni genitore vuole che i figli stiano insieme e si vogliano bene e così almeno di domenica ci incontriamo tutti insieme in Chiesa per professare insieme la nostra fede nel nome di Gesù. E il Signore non può essere non felice vedendoci così insieme, professare la nostra fede insieme e dire Padre Nostro e ricevere la comunione. Per concludere, andrai in India, tornerai a Mistretta? Spero di sì, perché ci sono tante occasioni per me personalmente perché sono missionari della misericordia, già prossimo anno è Giubileo della Speranza e abbiamo un appuntamento noi tutti missionari della Chiesa in Vaticano e quindi spero di approfittare questa occasione per visitare la comunità di Mistretta.